E questo a chi si sente poeta. Cerca nel tuo animo le belle emozioni vive che vanno oltre la rima o la numerazione delle sillabe. Non farti intimidire da coloro che vorrebbero, ma purtroppo non possono, soffrono che gli altri sentono. Non farti calpestare da chi non sa o non può fare, da colui che si auto elegge, critico della bella poesia. E' questi colui che la respinse, che riconosce solo i classici, perché non vuole apprezzare coloro che vivono nel presente. E poi quando c'è un po' di successo, quando il da fare prende forma, lui commenta, analizza, si intrufola nelle riviste, cerca di insegnare a chi ne sa. E da lontano gli puoi fare un tuo sorriso, perché tu sei il poeta, il vero creatore, perché tu ti accompagni la vita con la tua vicina e amata poesia. Grazie.